Si fa più concreta la possibilità di bonificare il sito contaminato di bussi. Dopo il Tar, anche al Consiglio di Stato, il Ministero dell'Ambiente perde contro la Regione Abruzzo, in merito alla questione relativa alla discarica di bussi. Il Ministero non è riuscito a dimostrare l'esigenza di bloccare tutto, anzi la Regione, insieme all'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e dai comuni interessati, rappresentata dall'Avvocato Stefania Valeri, ha saputo dimostrare lo stato di grave pericolo e l'urgenza di provvedere alla bonifica dei terreni. Essendo la sentenza del Tar ancora valida, la società, che ha vinto la gara, può adesso integrare il progetto, al fine di superare i rilievi e le osservazioni che erano stati sollevati. Nel frattempo, Edison deve continuare a fare la messa in sicurezza in maniera concreta e non nei modi che sono stati documentati in tribunale. Il Consiglio di Stato, al termine dell'udienza d'appello, ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta dal Ministero dell'Ambiente, fissando l'udienza di merito al 13 maggio prossimo e ha respinto la pretesa del Ministero e di Edison di sospendere l'efficacia della sentenza del Tar. Con questa sentenza, il progetto può proseguire in quanto non è in contrasto con il lavoro che Edison sta facendo per la messa in sicurezza, hanno commentato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l'Assessore Nicola Campitelli. Ringraziamo per il lavoro svolto l'Avvocatura regionale e l'Arta per il prezioso lavoro documentale che ha permesso alla Regione di dimostrare la validità delle proprie posizioni.